ossuario biconico datazione ottavo secolo avanti cristo provenienza località poggio renzo chiusi il vaso è detto biconico per la forma a doppio cono uno rovesciato sull'altro la ciotola che copre il cinerario poteva essere sostituita nel caso di sepolture maschili da un elmo il vaso era deposto in un pozzetto scavato nel terreno con il corredo funebre accanto la decorazione è di tipo geometrico linee semplici losanghe triangoli piccoli cerchi i vasi biconici utilizzati come ossuari erano plasmati con una sola ansa oppure avevano un'ansa intera e una spezzata intenzionalmente l'oggetto in questo modo perdeva il suo uso quotidiano così come la persona perdeva il suo posto nel mondo dei vivi per entrare in quello dei morti